Stai ascoltando un podcast? Rizzoli Education Colorati di gioia di Elisabetta Marchetti Ciao, sono la maestra Elisabetta Marchetti. Eccoci a una nuova puntata della serie dedicata alla religione e all'arte. Nelle precedenti puntate abbiamo compiuto tanti viaggi nella terra di Gesù. Siamo stati a Betlemme, ci siamo spostati a Nazareth e infine a Gerusalemme, sotto il portico del Tempio del Grande Re Erode. Oggi siamo ancora a Gerusalemme, ma in un altro luogo, nella grotta in cui Gesù è risorto dalla morte la mattina di Pasqua. Ascolta con attenzione le mie parole. Ti guiderò nel disegno con la mia sola voce. Potrai ascoltare questo podcast anche più di una volta, oppure fermare all'occorrenza per non perdere le informazioni che ti darò. Cosa metterai nello zaino del viaggio? Basteranno un astuccio pieno di colori e tanta fantasia. E ora dammi la mano e la tua voce. Ripetiamo insieme una frase speciale che ci farà partire per questa nuova avventura. Allaccio le orecchie, accendo l'attenzione e spicco il volo con te. Prendi il tuo foglio o cartoncino e disponilo in orizzontale. Giotto ha disegnato due momenti della vita di Gesù nello stesso affresco. A sinistra il sepolcro vuoto. A destra l'incontro di Gesù con Maria Maddalena. Per questo motivo anche tu dividerai il foglio in due parti uguali a metà in verticale. In ciascuna di esse disegnerai le due scene diverse. Partiamo dallo sfondo che è unico per entrambe le scene. Disegna una collina. Parti dall'alto a sinistra e scendi fino in basso a destra. Lavoriamo prima la parte di sinistra della scena. Disegna il sepolcro vuoto di Gesù sotto il profilo della collina, partendo dal lato sinistro del tuo foglio. Il sepolcro ha la forma di un parallelepipedo, cioè simile a quella di una confezione di latte. Lo disegnerai sdraiato, disposto per il lungo. Sopra il sepolcro sono seduti due angeli, uno in cima, l'altro in fondo. Essi tengono in mano una bacchetta, come se fossero due re. Disegna solo all'angelo di destra un bel paio di ali aperte. In basso alla scena, in primo piano e davanti al sepolcro per terra, disegna cinque soldati romani. Le guardie che Pilato aveva messo a custodia del sepolcro di Gesù. Disegna i cinque uomini addormentati. Tre sono seduti ai piedi del sepolcro. Gli altri due sono sdraiati davanti a loro verso di te. Adesso occupiamoci della seconda scena, quella di destra, in cui Gesù incontra la sua amica Maria Maddalena. Maria è a sinistra in basso in primo piano. La disegnerai in ginocchio di profilo. Maria Maddalena tende le braccia in avanti come per afferrare il corpo di Gesù. Adesso disegna Gesù in piedi, tutto a destra della scena. E di Maria. Gesù sta camminando. Mentre cammina, si scopre il suo piede destro e anche il segno dei chiodi. Il suo braccio destro è alzato verso Maria, come per dire «Fermati, non mi toccare». Anche il volto di Gesù lo girerai verso sinistra, verso la figura di Maria Maddalena, perché la sta guardando. Tutti, tranne le cinque guardie, hanno l'aureola, quel cerchio di luce che rivela la santità. Gesù tiene nella sua mano sinistra il bastone di una bandiera che sventola sopra la sua aureola. Nella bandiera disegnerai una croce e scriverai queste parole. Ho vinto la morte. Passiamo adesso alla coloritura. La collina è una roccia con tanti marroni e beige. Gli angeli e Gesù hanno la stessa veste lunga bianca bordata di oro. Di oro sono anche le aureole. Il sepolcro è un marmo rosa tenue, con delle striature rosse. Per le guardie userai dei grigi e un rosso scuro. Anche Maria Maddalena ha un abito rosso scuro. Il cielo è blu cobalto. Eccoci giunti al termine del nostro dettato d'arte. Ti faccio i miei complimenti. Chiedi all'adulto accanto a te di aprire il browser internet e digitare Gerusalemme, Basilica del Santo Sepolcro. Tra i tanti link potrete esplorare sia immagini che video su questo luogo da cui è nata e si è diffusa la religione cristiana nel mondo. Per confrontare invece il tuo disegno che hai appena terminato con l'opera d'arte originale chiedi all'adulto di digitare per te nel browser le seguenti parole Giotto, risurrezione di Gesù e non mi toccare che in latino troverai tradotto nella famosa frase Noli me tangere. Apri l'immagine e guarda poi la tua. Sei stupita? Sei stupito? Lo spunto che il pittore Giotto ha utilizzato per dipingere questa scena si trova nella Bibbia, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 20 versetti 16 e 17 e adesso ti do qualche informazione su questo famoso pittore. Giotto nacque circa nel 1266 in un paese vicino a Firenze. Era figlio di Bondone. Il suo nome, Giotto, potrebbe essere un soprannome di Ambrogiotto, cioè piccolo Ambrogio. Per questo oggi è chiamato Giotto di Bondone, cioè Ambrogiotto figlio di un uomo chiamato Bondone. Giotto era un bambino allegro e intelligente, amato da tutti coloro che lo conoscevano. Un giorno passò dalla sua campagna, dove forse faceva il pastorello, il grande pittore fiorentino Cimabue, e lo vide disegnare le sue pecore su una roccia. Qualcuno racconta che le pecore disegnate sembravano addirittura vere. Cimabue colpito chiese al padre Bondone se poteva prendere il ragazzo a lavorare nella sua bottega come apprendista. E così fu anche il papa Bonifacio VIII voleva mettere alla prova Giotto per capire se era un bravo pittore per dipingere alcuni quadri importanti in Vaticano. Il papa inviò un messaggero chiedendo a Giotto di rispedirgli un quadretto. Invece di fare un dipinto, che avrebbe richiesto molti giorni, Giotto disegnò con vernice rossa un cerchio così perfetto che sembrava disegnato con un compasso. Giotto disse al messaggero di darlo al papa, che il cerchio sulla tela viaggiò fino a Roma e il papa capì le qualità dell'artista solo guardando la semplicità con cui aveva disegnato questa forma. Così Giotto andò a Roma e iniziò a lavorare per il papa. La fama di Giotto e la sua fortuna crebbero. Si sposò con una donna dalla quale ebbe otto figli. Giotto dipinse molte opere nella sua città e in molte altre d'Italia. A Firenze, nella Basilica di Assisi, a San Pietro in Vaticano a Roma, a Rimini, a Padova nella Cappella degli Scrovegni, a Napoli, Bologna, Milano. Poi si ammalò gravemente e tornò a Firenze, dove morì nel 1337. Mi è venuta un'idea. Perché non mi mandi il disegno che hai fatto? Sarebbe bello che li spedissero anche i tuoi compagni e le tue compagne. È molto semplice. Ti basterà aprire il link nella descrizione dell'episodio, compilare il modulo in tutte le sue parti e allegare il tuo disegno. Non vedo l'ora di ammirare i vostri capolavori. Seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Colorati di gioia di Elisabetta Marchetti. Hai ascoltato un podcast? Rizzoli Education